Siamo arrivati in un poteco, in un paio di un'unica di mezza. La ragazza che si sta molto dolce, si sta per raggiungere la prima. Dai, che energia, ragazzina. Dai, giù. È velocissima questa cosa è bella, che è la prima. Siamo arrivati in un po' di mezza, la prima. Siamo arrivati a mezza, la prima. E non so, il volete, con il voleto, il volete, con il volete. Inizio. Ok, questa è stata la prima simulazione. Ora portiamo con la seconda. Volevo comunicare che la Bisericordia di Termoli, alla fine di queste tre esercitazioni, insieme al nostro movimento 118, vi farà vedere, in poco tempo, come si utilizza un vetro di vetore. Per quanto tempo, la Bisericordia Saro, che qui inizia un testo, dove si utilizza il tuo caso del Cochino, che insieme al nostro corpo, è stato un supermercato con un pericolo, che si utilizza un altro modo, che si utilizza unito. C'è stato un supermercato di attenzione. Per essere, in – – – poi si utilizza un'unica fragilità, in cui si utilizza un'unica fragilità, con un cartazzo, Grazie a tutti.